cari 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 amici eccoci qui a parlare di calcio mercato anzi fanta mercato fanta mercato perché è di questo che possiamo parlare il vero calcio mercato non è ancora iniziato però si fanno tutti i nomi più disparati e quindi vuoi o non vuoi devi parlare di calcio mercato fra poco iniziere al mondiale ma prima di quello parliamo di calcio mercato di fanta mercato allora allora il nome caldo è il nome caldissimo il nome caliente 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 è Nainggolan Nainggolan della roma sembra veramente essere fatto prima c'è l'interesse del giocatore poi c'è la chiamata gli spalletti c'è adesso addirittura tutto sport che dice che è stata raggiunta anche l'intesa non solo col giocatore ma addirittura con la roma sarà vero non sarà vero non chiedetemi cioè leggete anche voi gli articoli valutate se può essere vero o meno io io credo che l'interesse ci sia l'interesse ci sia e come almeno quello di portarlo a milano e spalletti lo vuole a tutti i costi secondo me questa è la vera realtà dei conti spalletti lo vuole a tutti i costi e a mio modo di vedere sarà sarà anche accontentato è la mossa giusta è la mossa giusta onestamente non saprei perché allora perché comunque Nainggolan Nainggolan non è un profilo così giovane se non sbaglio a 29 anni si appresta i 30 non volevi dire cazzate però dovrebbe essere così ed è valutato intorno ai 40 milioni adesso si parlerebbe di 29 milioni più zaniolo della primavera per arrivare a questa questa cifra qua e potrebbe essere anche vero perché Monci lavora sui giovani cioè Monci vuole giovani ha preso cristante ha quasi veramente portato a casa anche Clivert un altro gioiellino e secondo me alla lunga la politica che sta facendo la Roma porterà veramente i suoi frutti veramente porterà i suoi frutti quella che stiamo facendo noi non lo so mica tanto bene mica tanto bene perché tu hai trovato avevi trovato un bene Raffinia che se prendi Nainggolan secondo me non prendi Raffinia secondo me perché non credo che prendi che sborsi 30 40 milioni per Nainggolan e poi ne puoi sborsare arti 40 per per Raffinia non credo stando ad oggi fair play non fair play compagnia bella non credo quindi se prendi Nainggolan molto probabilmente non prendi Raffinia e conviene prendere Nainggolan e non prendere Raffinia non saprei non saprei mica tanto ti dico perché Raffinia è un profilo più giovane e e abbiamo visto che il cosa ha saputo fare all'Inter sicuramente sicuramente farà nel caso venisse farà bene Raffinia farà bene perché troverà l'allenatore che più di tutti lo capisce alla perfezione che più di tutti lo gli ha fatto gli ha permesso di raggiungere il livello massimo della della carriera perché con con spalletti Nainggolan ha fatto un bordello di gol ma soprattutto delle prestazioni eccellenti ce lo ricordiamo bene cosa cosa c'è cosa ci ha fatto a noi è partito dalla difesa c'è infilato dei gol micidiani Nainggolan è una bestia se sei in forma se sta bene con la cavessa se fa quello che gli l'allenatore gli dice Nainggolan è forte però giustamente ha già iniziato ad avere la sua età quindi in ottica futura io avrei preso un Raffinia e non un Nainggolan ma se l'allenatore che lo chiede io per forza di cose per forza di cose devo dare come posso dire dare ragione a spalletti perché l'allenatore che ci ha portato in Champions League su lui chiede Nainggolan e non Raffinia io lo devo cioè io devo fidarmi di lui devo continuare a fidarmi di lui poi vedremo cosa cosa succederà fidandosi cosa cosa dove arriveremo questo molte volte ho criticato la dirigenza io non sono molto favorevole a questi cinesi ok però comunque in due anni ti hanno portato in Champions League e per cui voi o non voi non puoi non apprezzare il loro operato al momento e se poi all'andare in Champions invece di essere una costante sarà un'eccezione poi dovrò ancora rivedere ulteriormente il mio giudizio su di loro è così che funziona ed è così che funziona da sempre su ogni cosa ad oggi ripeto ancora una volta mi sta piacendo tantissimo il calciomercato della Roma perché sembrerebbe essere mirato sui giovani sui giovani talenti abbiamo parlato di Zaniolo che fungerebbe da contropartita e dico un'altra cosa abbiamo questa primavera che porta a casa un bordello di titoli ma veramente un bordello di titoli poi non c'è un giocatore della primavera che gioca a titolare nell'Inter o che comunque può essere un ottimo rincalzo l'unico è Santon e ho detto tutto e ho detto tutto Santon che veniva all'epoca dalla primavera l'unica è lui ma di recente di giocatori recenti che sono emersi dalla primavera ditemene uno nell'Inter ditemene uno ed è vergognoso secondo me è vergognoso perché se se vincono vuol dire che non dovrebbero essere in media più forte più forti delle degli altri delle altre rose delle altre primavere penso e penso poi può darsi pure che sto bestemmiando ma penso che se uno più uno mi hanno insegnato che faccia due o meglio se due più tre mi hanno insegnato che fa fa cinque poi credo che tre più due comunque faccia cinque poi non lo so non lo so i miei paragoni non sempre funzionano benissimo va bene ragazzi poi si parla di chiesa c'è un nuovo forcing di chiesa questo sì sarebbe un profilo giovane però costa un bordello di soldi però l'Inter sempre essere interessata siamo in stand by su Marco ma perché non si è capito nulla ancora giustamente ieri si è parlato di zappacosta sulla destra zappacosta ma ho lanciato una foto su instagram e vi invito a seguirmi lì a nessuno piace questo profilo qua quindi spero che sia una bufalo che sia solo un piccolo sondaggio su cansello cansello secondo me non verrà assolutamente non riscatato perché non è già scaduto il riscatto ma non verrà acquistato perché onestamente non verrà acquistato facciamoci cioè ormai è andata così perché vogliamo fare questa questa diciamo è attualmente a mio avviso la situazione stando alle notizie che arrivano del nostro calciomercato poi vedremo a parliamo di cavi non abbiamo parlato di capi caldi vanno subito indirte hanno visto vandanare con un vestitino bianconero ricardi va alla you va bene questa è pura veramente pura follia ormai che c'è una follia su quel giocatore non capisco c'è ma proprio è una follia quella degli interisti e non su su questo giocatore che sembra veramente non lo so non lo so non lo so va bene mi sono anche dilungato un po troppo questo era un po il mio pensiero un po vi ho riportato le notizie del del nostro calciomercato a livello attuale vedremo come si evolverà in seguito fatemi sapere cosa ne pensate voi dell'arrivo di Nainggolan qualora avvenisse e compagnia bella dai ragazzi un grande abbraccio forza inter sempre avala sempre e comunque se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram